Importante testimonianza storica e straordinario esempio di fortificazione urbana, la cinta murata di Bergamo è giunta fino a noi dopo la disposizione del terreno, alla cinta romana, il cui sviluppo a seconda delle diverse ipotesi misurava da un minimo di 1500 metri ad un massimo di 2300. Alla muraglia medievale che già prima dell'anno 1000 e fino al 400 era andata inglobando per lunghi tratti quella romana adattandosi progressivamente alla particolare morfologia del terreno. L'intero scudo medievale sembrava dunque proteggere discretamente la città e i borghi dagli attacchi di truppe fornite di armi bianche, catapulte, alte scale, funi munite di arpioni, macchine d'assedio con passerella per sovrappassare le cortine, arieti e quant'altro poteva consentire il superamento dei vari ostacoli predisposti dai difensori che cambiavano rapidamente e con loro anche le tecniche di assalto che dal 400 si abbassero delle armi da fuoco. Si determinò così per la Repubblica di Venezia alla quale fin dal 1428 il territorio robico che era stato assegnato con la pace di Ferrara la necessità di dotare urgentemente la città di un nuovo apparato di difesa capace di resistere all'azione demolitrice dell'artiglieria e delle mine. Il pallavicino riuscì a tracciare quasi tutto il circuito della cinta murata la cui costruzione richiese però tempi imprevedibilmente lunghi ben 27 anni con un costo per l'erario di un milione di ducati senza contare le spese per la guarnigione e gli approvvigionamenti. Le artiglierie piazzate nei due fianchi di cui uno rientrante e protetto da orecchione erano in grado di battere sia la cortina adiacente Porta San Lorenzo sia la cortina spezzata di nord-est la quale a sua volta era attrezzata con due cannoniere affiancate tra loro collegate per mezzo di un vasto locale di manovra. Ed ora scaliamo l'orologio del tempo per immergerci in una visita virtuale ma con ciò non meno suggestiva ai locali originari della cannoniera. Da sempre considerata il piede d'argilla dell'intera fortificazione per la sua tendenza a franare causa l'instabilità del terreno su cui poggia e la sua posizione prospicente il vuoto del profondo pallone della Fara, la tenaglia di Sant'Agostino si articola nei baluardi contrapposti del pallone e di Sant'Agostino tra loro collegati da una breve ed alta cortina difesa da due cannoniere. Assai criticata all'epoca per l'eccessiva distanza tra i due baluardi in sequenza di San Michele e San Giacomo la lunga cortina che li congiunge risulta interrotta dalla piattaforma di Sant'Andrea che sostituisce due piattaforme inizialmente studiate per il posizionamento di pezzi d'artiglieria in grado di ridurre la fragilità del sistema difensivo. Insomma vi era la ferma volontà di disporre in modo assoluto del dominio in quota per colpire più ecevolmente, impedire al nemico di accedere a ripari di qualsiasi genere e attestarsi nello spazio antistante la muraglia considerata l'ultima difesa della città, la linea di demarcazione invalicabile tra dentro e fuori, tra le rassicuranti certezze della comunità e le inquietanti ombre del mondo esterno, pietre senza tempo che risplendono a volte da una magica livrea luminosa, quasi a riecheggiare nella notte la propria storia secolare. Grazie a tutti!